Buonasera a tutti, sono Mancini Maria Cristina e sono qui a Norcia. Sono venuta in un luogo che ho frequentato per lavoro come giornalista della pagina cultura e spettacolo per la nazione per ben 5 anni, dal 1997 fino al 2000-2001. Sto davanti a un teatro che per me era molto caro ed è tutt'oggi il teatro civico di Norcia, un teatro che era stato gestito allora da Renato Ballestra e la sua compagna e ho trovato invece come era prevedibile una fase di ristrutturazione. Ecco, questo è il teatro che io avevo frequentato e come vedete l'ho trovato chiuso. Un grande dispiacere perché io vorrei che riaprisse, la ricostruzione deve esserci, il modo per farla c'è, la semplificazione, le risorse ci sono, ci vuole solo la buona volontà e soprattutto molta concretezza. Vi ricordo che le votazioni sono il 27 di ottobre, sono Mancini, mi presento per la lista Ricci-Presidente e la coalizione delle liste civiche collegate. A voi tutti da Norcia, un grande saluto e una buona ripartenza. Grazie.